Io mi chiamo Leda Viola, sono proprietaria e anche gestore di un albergo a due stelle che si trova a Gaeta, nel Lazio. Mi sono iscritta ad albergatore pro perché penso che il mio albergo abbia tante potenzialità, penso anche che un albergatore al giorno d'oggi non può avere tutte le nozioni che gli servono per gestire l'albergo in modo imprenditoriale e quindi ho pensato che era utile per me ampliare le mie conoscenze e affidarmi a un team di esperti. La cosa che mi ha colpito di più, a parte tutti gli aspetti tecnici, quindi il revenue, marketing, perché per carità sono tutte cose molto importanti, mi ha colpito tantissimo l'intervento dello psicologo Mazzucchelli e penso che sia una fonte di ispirazione importante nel nostro lavoro. Il mio albergo può essere considerato una sfiga, ma per me è una grande sfida, quindi questa è la cosa che mi ha colpito di più, perché come ho detto non possiamo avere conoscenze approfondite di tanti settori e soprattutto condivido quello che dice sempre Gianmarco, che noi non siamo fatti per stare in un hotel 24 ore al giorno trascurando tutti gli altri aspetti della vita e delle relazioni sociali. Di conseguenza è utile, sì, ampliare le proprie conoscenze e capire come si può migliorare nel proprio lavoro e possibilmente affidarsi anche a persone di altri settori che ti aiutino lì dove tu non puoi essere al 100% un esperto. Grazie a tutti.